non è che dove è? dove è? sono fuzie è un tereo migliore è un bel porto non è detto che è un bel porto non è un po' non è un po' non fa quello che è parloci eh secondo me è un po' si è un po' di piedi sono le rolle quindi se devi giocare ieri Grande Grazie a tutti 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 Grazie a tutti